pollo pollo delle mie brame chi è il polpo più bello del reame mario bindi in persona certo in polpona in polpona il polpo della darsena il polpo di viareggio certamente ormai non so più quando sono polpo e quando sono mario bindi tanto d'avere addirittura scritto una canzone si me la sono scritta siccome me la scriveva nessuno allora me la sono scritta da me insieme a lorenzo biagini e volete che me la canto vai facciola sentire raggiungiamo il centro palco vieni qua con me eccoci qua il microfono a te signori e signori di bindi biagini lorenzo il polpo dirige l'orchestra il maestro pepe signori mi presento sono il polpo simbolo antico dei veri viareggio di quelli che anzoltiato il mare cuo i velieri di quelli maestri d'ascia e calafati di quelli che una volta all'anno con la carta festa ti sanno sempre inventare a viareggio una gran festa le vedi queste braccia guarda qua sono tutte le bellezze della mia città il sole il nostro mare l'argento dell'arena un volo di coriandoli il volo quando è sera il sole il nostro mare l'argento dell'arena un volo di coriandoli il volo quando è sera il sole il nostro mare l'argento dell'arena un volo di coriandoli il volo quando è sera il volo quando è sera il volo quando è sera ah che sogno il volo quando è sera blavo adi blavo adi avele poltato polpo e io fare immediatamente i sushi con questo polpo venile qui polpo venile qui polpo no 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 Giacomo Giacomo il polpo a viareggio si cucina solo a rione d'arsena ma Giacomo il polpo a viareggio si cucina solo a rione d'arsena che fa tornare a ridere il piedro e a legge il cambiatore che al primo sole si riveste Gior e solo per gli amici di fuoricorso siamo penetrati all'interno delle cucine del grande rione d'arsena per scoprire i segreti di quello che è il piatto poi fondamentale che tutti vengono a gustare ovvero il risino il risotto come lo chiamiamo? lo chiamiamo risotto proprio alla darsenota però per maggiori decidazioni bisogna parlare con il signor Simonini Elbo che lui è 30 anni passati che lo fa il risotto è una ricetta sua particolare Elbo visto che è 30 anni che fa questo risino dici il segreto il segreto è facilissimo olio pesce vieta però insomma c'è la mano del maestro ma gli ingredienti ce li puoi dire? prima ce li hai detti però di preciso tipo 4 porzioni olio olio pesce vieta salsa di pomodoro sale e droghe droghe nel senso dato rosmarino no niente rosmarino ecco l'unica cosa che ho detto sbagliato le cucine della darsena sono a pieno regime sono a pieno baccanale no regime è una parola non ci garba tanto no brutta brutta hai ragione nulla regime nulla regime cancella allora che cosa si mangia al darsena a parte le grandi specialità insomma di polpo? ma ascolta le penne sono io penso il fiore all'occhiello della cucina della darsena anche se tutti stanno continuano con stori sotto stori sotto le penne sono la cosa fantastica ciao a tutti amici e venite qua mi raccomando eh le penne vi aspettano ci fai un saluto agli amici di fuoricorso? la risata va bene fammi un saluto a fuoricorso? eh tanti saluti a fuoricorso speriamo che continui sempre così speriamo ciao a tutti ciao a tutti